Musica Shalom, è un immenso piacere poterti invitare quest'anno a venire insieme a noi per un viaggio profettico proprio come dice il profeta Zaccaria nel capitolo 14 che tutte le nazioni saliranno per adorare il re di anno in anno quindi quest'anno vieni insieme a noi a lanciare decreti, a lanciare una parola di destino a far sì che la nostra famiglia riceva la pioggia come promesso nella parola di Dio sai, i nostri miracoli devono essere provocati il centurione che era romano, che era italiano, ha provocato il suo miracolo e Gesù ha detto, nemmeno in Israele ho visto una fede così grande ecco, quest'anno andremo lì e tu provocherai il tuo miracolo ti aspettiamo dal 12 al 18 novembre andiamo e saliamo alla casa dell'Eterno mi sono rallegrato quando mi hanno detto, andiamo alla casa del Signore Dio ti benedica Dio ti benedica Dio ti benedica Dio ti benedica Dio ti benedica